Benvenuti su Profesi, io sono Andrea e oggi voglio parlare di un argomento su cui secondo me c'è un po' di confusione, voglio provare a fare un po' di chiarezza perché se vi ricordate, anzi sicuramente ve li ricordate, AMD con l'introduzione dei primi processori Ryzen ha portato anche dei nuovi dissipatori stock che abbiamo avuto modo di trattare e di apprezzare nel corso dei mesi passati e effettivamente ci siamo tutti resi conto che sono delle soluzioni davvero valide, almeno in quelle situazioni in cui ad esempio come nel gaming non sfruttiamo sempre al 100% la nostra CPU e soprattutto in quelle situazioni in cui non si vuole fare overclock. Effettivamente in questi casi sono in grado di mantenere delle temperature sotto controllo, delle temperature accettabili. Storicamente invece del dissipatore stock di Intel non si è mai parlato benissimo, è sempre stato un po' preso in giro come soluzione di dissipazione integrata e quindi oggi arrivati nel 2018 in cui vi ricordo abbiamo i processori Coffee Lake di ottava generazione che hanno aggiunto due core in più rispetto al passato su tutta la line up, si possa fare del gaming con questo dissipatore stock incluso in confezione senza preoccuparsi troppo delle temperature. Prima di passare ai test in cui ho anche messo a confronto il dissipatore stock con un altro paio di soluzioni aftermarket proprio per avere un metro di paragone per capire se valga o meno la pena investire qualche decina di euro su un dissipatore da comprare a parte, voglio informarvi che in descrizione trovate tutti i link per i componenti che compongono la build che state vedendo in questo momento e che ho utilizzato proprio per eseguire questi test. Non voglio dilungarmi sui componenti perché non servirebbe nemmeno ai fini del video ma è importante specificare la temperatura ambiente che era di circa 24 gradi quando ho eseguito questi test e il case che ho utilizzato che è un Bitfenix Nova TG come state vedendo in questo momento dalle riprese. È un case con un airflow standard diciamo non è forato nella parte superiore e è un case che avrete sicuramente visto in passato in molte budget build perché costava circa 35 euro. Adesso la versione in vetro temperato il prezzo al pubblico dovrebbe essere di circa 49 euro ha un design abbastanza sobrio il layout interno è un po' vecchiotto però comunque se vi piace il vetro temperato e se vi piace a livello estetico potrebbe essere una valida soluzione per una build economica. Vi ricordo nuovamente che anche di questo case trovate il link in descrizione insieme a quello delle ventole utilizzate per questi test che ci ha gentilmente inviato Bitfenix e sono delle Spectre Extreme LED. In questo caso sono due frontali in emissione e una posteriore in estrazione ma torniamo ai nostri dissipatori perché come vi dicevo ho eseguito questi test anche con altri due dissipatori oltre a quello stock in particolare sono il Be Quiet più Rock Slim e il Cooler Master Master Air 410p. Il primo con ventola da 92 mm il secondo con ventola da 120 mm RGB come state vedendo in questo momento. Quest'ultimo tra l'altro adesso si trova veramente ad un ottimo prezzo. Oltre a queste due soluzioni che sono entrambe abbastanza economiche vi lasciamo in descrizione qualche altro modello che noi riteniamo valido e che potreste magari scegliere in alternativa a questi due in caso non vi piacessero e in caso preferiste qualcosa di diverso. Ultima precisazione tutti i test ovviamente sono stati eseguiti con il pannello montato quindi con il case chiuso anche se nelle riprese magari ne avete vista qualcuna in cui era smontato per evitare i riflessi e è stata utilizzata la stessa pasta termica per tutti e tre i dissipatori è una Arctic MX4. Vediamo finalmente i risultati di questi test eseguiti su Fortnite e su Battlefield 1 titolo che tra l'altro sfrutta parecchio la CPU e l'abbiamo scelto proprio per questo poi vedrete in seguito e ci accorgiamo immediatamente che su Fortnite con preset alto il dissipatore stock comunque riesce a mantenere una temperatura veramente eccezionale di 50 gradi e non arriva mai neanche a toccare i 60 gradi limite che raggiunge solamente nel caso in cui abbassiamo il dettaglio grafico passando al preset basso in modo da sfruttare maggiormente il processore o meglio da spostare maggiormente il carico sul processore ma anche in questo caso ecco lo state vedendo si riesce a mantenere la frequenza di turbo massima che è 3.8 GHz e il dissipatore stock si comporta davvero molto bene. Passiamo quindi a Battlefield 1 che come vi dicevo sfrutta davvero intensivamente il processore e di questo ve ne potete accorgere anche guardando le percentuali di utilizzo. Questo ovviamente comporta un aumento delle temperature che comunque però con il dissipatore stock rimangono inferiori ai 65 gradi circa anzi anche in questo caso una soglia che raggiungiamo e superiamo solo nel momento in cui si abbassa il dettaglio grafico passando al preset basso anche qui sempre per vi ricordo spostare maggiormente il carico sul processore insomma in parole povere per farlo lavorare di più. Vi faccio notare che anche in questo caso siamo a 3.8 GHz fissi non ci schiodiamo da lì è la frequenza massima raggiungibile dall'i58400 in turbo boost e quindi la conclusione che possiamo trarne è che effettivamente anche con il dissipatore stock riusciamo a sfruttare questo processore al massimo del suo potenziale. Volevo togliermi lo sfizio e quindi ho eseguito uno stress test anche su cct così da simulare una situazione come quella magari del rendering video in cui il processore è fisso costantemente al 100% di utilizzo per parecchi minuti consecutivi. Anche in questo caso il dissipatore stock si è comportato davvero molto bene lo state vedendo ha raggiunto una temperatura massima di circa 69 gradi. Arriviamo quindi alle conclusioni perché avete visto i risultati anche con gli altri due dissipatori aftermarket e potete rendervi conto da soli che se il vostro unico obiettivo è fare gaming con un processore come l'i58400 su cui ovviamente non potete fare overclock il dissipatore stock effettivamente può bastare almeno inizialmente potete risparmiare qualcosa e non dovrete per forza investire su un dissipatore aftermarket. Soluzione che comunque io vi consiglio nel caso in cui vogliate fare rendering video ad esempio o comunque in tutti quei task in cui il processore è sempre spremuto al massimo per parecchi minuti di fila. Soprattutto in vista dell'estate perché ovviamente la temperatura è destinata ad alzarsi e quindi con un dissipatore aftermarket state tranquilli di poter sfruttare il vostro processore sempre caricandolo al 100% senza dovervi preoccupare troppo delle temperature. E aggiungo anche che ne guadagnerete ovviamente in silenziosità perché con un dissipatore più prestante potete magari dal bios impostare una curva manuale per mantenere gli rpm della ventola più bassi ma ottenendo comunque delle temperature del tutto accettabili. Ah ragazzi piccola cosa non ho parlato dell'i7 8700 non vi ho portato dei test anche con questo processore ma iniziano ad essere 300 euro di cpu quindi si presuppone che in ogni caso vogliate acquistare un dissipatore aftermarket. Comunque se foste curiosi abbiamo visto altri test in rete e anche con questo processore comunque il dissipatore stock riesce a mantenere delle temperature accettabili alle frequenze dichiarate da intel. Quindi vi lascio magari il video in descrizione se voleste approfondire. Oggi mi sento soddisfatto penso di aver sfatato un mito sul dissipatore stock di intel ma fateci sapere voi nei commenti se vi aspettavate dei risultati del genere a noi onestamente hanno un po' stupito ci aspettavamo si comportasse un pochino peggio. Mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un bel like vi ricordo che in descrizione oltre ai link di tutti i componenti trovate anche la mail alla quale ci potete contattare per chiederci consigli o configurazioni e noi ci vediamo al prossimo video da Andrea è tutto. Bella!